Buonasera, buonasera a tutti. Allora porto il saluto, sono Dora De Diana, qualcuno mi conosce, porto il saluto del Presidente e il Direttore e questa sera salutiamo anche il Carnevale 2017. Lo facciamo così come abbiamo cominciato le attività alla Querini Stampalia, con una nuova serata insieme a Carlo Montanaro, insieme a Roberta Rieder e la sua associazione, insieme alle suggestioni musicali del maestro Trabacchin. E questa sera incontriamo uno dei personaggi penso più amati, almeno dalla mia generazione in poi, del mondo del cinema e delle comiche, del divertimento, ma anche di un divertimento qualche volta un po' stralunato e un po' triste, Buster Kito. Io credo che la mia generazione si ricordi oggi le comiche il sabato all'ora di pranzo, dove spesso tra gli altri attori c'era anche lui, che è stato però anche un regista, è stato veramente uno dei grandi classici del cinema americano internazionale. Finiamo il Carnevale, ma lo finiamo con intanto dei ben numeri, almeno per la fondazione, perché sia con le attività di Carlo e di Roberta, che hanno fatto sempre il tutto esaurito, sia per tutte le altre attività, insomma possiamo essere contenti e quindi anche dire grazie al Carnevale, grazie a Vela che ogni anno ci aiuta. Ma le cose non finiscono, non finiscono la fondazione querini stampalia, per cui continua la mostra di Titina Maselli, continua la piccola ma interessantissima mostra sulla famiglia Trentin, continua Vanitosa Venezia, le prime alla fondazione si concludono il 19 marzo, quindi avete ancora tempo, e anche Vanitosa Venezia, la fabbrica del vedere, dura fino al 19 aprile. Visto che vedo dei bambini, ricordo anche che dalla prossima settimana cominciano una serie di attività, continua gioco musica a casa Macchietta con Barchetta Blu, comincia un corso interessantissimo di inglese madrelingua, facciamo poi il maxi scarabeo di primavera, ma soprattutto per i grandi, ricordo 22 marzo, delitto a palazzo. Facciamo una serata a scoprire uno degli assassinati della famiglia Querini e con questo vi auguro buona visione e grazie. 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 Grazie.